abbiamo un tema che devo dedicare mi ha scattato scusa, a chi? Lisa? a chi? Lisa? Lisa? scusa, a chi? mi ha scattato a chi? 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 Finisce qui chiaramente la nostra puntata di oggi Noi ci vediamo Anna, che succede? Ti ho fatto male Ti ho fatto male davvero? Eh? Lisa? Davvero?